Now coming to stage is the winner of the World Dance Movement Concorso Division Junior Classical, Mr. Luca Sportelli, the choreography by another faculty member, Mr. Igal Perry. Ora abbiamo il piacere di presentare Luca Sportelli, il vincitore del primo premio del concorso internazionale del World Dance Movement 2013, della categoria Juniors Classico. presenterà una coreografia coreografata dai Igal Perry, un altro membro dei nostri insegnanti. Bocca al lupo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.